Il bottino è magro, molto magro e più che a qualche malvivente si pensa ad una ragazzata, ragazzata tuttavia di cattivo gusto perché rivolta alla cappella della Madonna delle Grazie. Nelle scorse ore i gnoti si sono introdotti nella struttura e hanno portato via delle coroncine in metallo, qualcuna forse d'argento, valore economico modesto, danno sentimentale ed affettivo invece notevole, aspetto che fa indignare la cittadinanza. Sulla vicenda indagano i carabinieri, mentre questa è l'opinione dei carovillesi. Sono i tempi che corrono purtroppo, siamo arrivati veramente molto 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 in basso come morale e diciamo quant'altro anche. Purtroppo non c'è nulla da aggiungere salvo il fatto che si è costernati, più di questo non è che si può discutere più di tanto. Se si arriva a queste cose vuol dire che si è andati molto 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 più che oltre. Non si è capito niente, sicuramente saranno dei ragazzi che hanno fatto questo furto. Niente, è una cosa molto strana perché qui a Carovilli non succede mai niente, quindi ho un dispetto, un gioco di ragazzi, solo questo. Forse ragazzate. Perché da quello che ho sentito non è che è un qualcosa di valore. Quindi qualcuno che si è dovuto divertire, penso. Che vogliamo pensare? Pensiamo che sia qualche ragazzata, come si usa fare pure per ragazzi che giocano, scherzano e poi non sanno la gravità che vanno a commettere. Ma non credo che sia oro. Non lo sappiamo. Se è di valore quello che hanno rubato o meno. Non sappiamo per favore!